Mangime e pane per i merli ho posto sul terrazzo, in questi giorni freddi. A consumare il pasto, appena spunta l'alba o nei merigi freddi, prima che cali sera, loro giungono ogni dì. Il seme è sempre là che aspetta, potrebbero beccarlo per cumulare tesori, almeno per un giorno, onde evitare ritorni. Soltanto a primavera un cinguettio festoso si alterna allegramente, un carico di semi per bocche spalancate che attendono nei niti. E solo quando è sera riposano sfiniti, nemmai un solo grido d'aiuto o di dolore sono usi, e né sudore trasfondono le piume. Ah, se potesse l'uomo ora emulare gli uccelli, intendere quanto è vano accumulare tesori, ridursi alla follia per smanie di successo, o quanto vale se stesso, creatura del creato a cui donò il buon Dio la coscienza del peccato.